Benvenuti in questo videocorso nel quale vi insegneremo a diventare dei videomaker da matrimonio, quindi dei wedding videographer. Come è facilmente intuibile, questo è solo un estratto di un videocorso molto più ampio che abbiamo pubblicato sulle nostre piattaforme. Quindi se vedete che vi manca qualche nozione, andate a vederlo perché sicuramente è molto più ampio e molto più interessante. Torniamo alla spiegazione. Sarà un'esperienza a 360 gradi, infatti vi racconteremo tutto quello che noi abbiamo imparato nel corso degli anni e soprattutto vi daremo anche dei consigli pratici su come poter diventare dei videomaker da matrimonio veramente importanti. Questo perché? Perché ci rendiamo conto che il servizio videomatrimoniale è sempre più richiesto, sempre più remunerativo e soprattutto ci permette sin da subito di iniziare con un qualcosa di tutto sommato divertente ma anche molto impegnativo. Quindi ci sono delle cose da dover tenere d'occhio per chi si approccia a questo tipo di video. Quindi iniziamo. Iniziamo a capire com'è strutturato un matrimonio. Facciamo una doverosa premessa. Noi abbiamo per lo più già sempre matrimoni in Italia, matrimoni italiani e quindi non siamo andati all'estero dove per esempio le cose sono completamente diverse come negli Stati Uniti oppure nell'Asia o negli altri paesi. Quindi ci basiamo ovviamente su quello che è il matrimonio all'italiana, ok? Per così dire. E soprattutto noi siamo di Torino, quindi siamo residenti al nord in cui a volte ci rendiamo conto ci siano delle differenze rispetto ad altre regioni d'Italia però comunque diciamo che di base al 90 su 100 un matrimonio all'italiana è strutturato in questo modo. Partiamo dunque con i preparativi, quindi la giornata del matrimonio inizia con i preparativi casa sposo e casa sposa. Poi passiamo al rito che può essere ovviamente religioso oppure civile. Poi abbiamo il momento foto, comunque il momento posato che può essere ovviamente in interno, in esterno oppure direttamente nella location. L'arrivo nella location appunto, il pranzo o la cena, il momento della festa e poi le immagini finali essenziali. Ora non vi preoccupate, tutta questa scaletta la andremo ad analizzare passo passo per capire com'è strutturato e come deve essere girato un matrimonio tenendo conto di questi step che sono importantissimi e fondamentali. Partiamo però con un'introduzione, quindi il filmmaker che si occupa di matrimoni ha un lavoro davanti a sé molto lungo e molto stancante. Questo perché il videomaker, nell'arco proprio dell'intero evento matrimoniale è quella figura che si impegna per più tempo nel matrimonio stesso. Forse i ragazzi del catering hanno un lavoro che è più lungo in termini di ore però il filmmaker è quello che ha più ore sul seta, quindi più ore nell'evento stesso perché infatti si parte dagli orari mattinieri fino a tarda notte quindi sicuramente un lavoro molto lungo e molto stancante anche perché siamo al caldo, ci dobbiamo spostare da una parte all'altra velocemente e siamo sottoposti a grande stress. Quindi sicuramente il lavoro del filmmaker da matrimonio ma del filmmaker in generale, ma in questo caso ancora di più, è molto stancante. È un lavoro anche estremamente comunicativo, infatti voi dovrete gestire quello che è il matrimonio. Infatti succede così, sempre fotografo e filmmaker sono loro che trainano il matrimonio che trainano gli sposi, che decidono i tempi, decidono le modalità, cosa accelerare cosa invece dilazionare di più. Quindi dovete essere estremamente comunicativi, dovete essere estremamente bravi nel riuscire a gestire tutti gli invitati, compresi anche ovviamente gli sposi. Passando invece a alcuni consigli che mi sento subito di dare che sono indispensabili per chiunque voglia approcciarsi al wedding video dal lato propriamente tecnico possiamo dire che le cose che ci fanno fare la differenza e gli elementi che ci fanno fare la differenza sono la giusta focale, la giusta profondità di campo catturare i dettagli e fare una giusta composizione. Ovviamente bisogna anche tenere conto che ci sono delle cose che sono al di fuori del nostro controllo quindi per esempio la luce, infatti in un matrimonio passiamo da un momento che è totalmente sovraesposto come può essere la cerimonia piuttosto che le fasi centrali a una situazione sottoesposta, quindi nel momento della festa. È fondamentale essere al posto giusto, al momento giusto, sempre non bisogna mai distrarsi e poi è fondamentale per riuscire ad avere un buon video matrimoniale quindi di livello alto e professionale dare sempre movimento sia da parte nostra che da parte soprattutto dei soggetti quindi cercare di creare un qualcosa che non sia statico. Iniziamo subito il nostro viaggio all'interno del wedding video quindi la prima cosa che ci troviamo a fare è il rapporto con gli sposi ora infatti parleremo del primo contatto e delle fasi iniziali del lavoro il primo contatto che possiamo avere appunto è solitamente con la coppia direttamente cioè chi ci commissionerà il lavoro tuttavia però può anche essere un fotografo che ci chiede di collaborare e questa è un'opzione molto probabile infatti gli sposi, comunque le coppie tendono a rivolgersi principalmente agli studi fotografici che poi loro stessi subappaltano o vendono direttamente il servizio video quindi se siete dei videomaker è molto probabile che stringere collaborazioni con studi fotografici vi porti sin da subito tante date in ogni caso la prima cosa da chiedere alla nostra coppia è ovviamente la data del matrimonio e quindi se si svolgerà di giorno o di sera questo perché? perché molte volte capita di rispondere se sì ci siamo se sì ci siamo però la data è solo una e quindi bisogna essere organizzati e bravi a prendersi il momento giusto e quindi avere un calendario preciso degli eventi che abbiamo gli orari infatti possono cambiare per un matrimonio abbiamo i matrimoni diurni che solitamente vanno dalle 7 alle ore 20 e invece quelli serali che vanno da mezzogiorno circa fino alle 2 di notte dopo il primo contatto con gli sposi è fondamentale organizzare subito un appuntamento oppure una call ma meglio sempre un appuntamento face to face nel quale dobbiamo capire bene i dettagli del lavoro come per esempio il numero di operatori che saranno necessari e altre specifiche tecniche che ora vedremo consiglio vivamente di avere un listino prezzi pronto da presentare durante la vostra call ci sarà una puntata dedicata dove parleremo di come farlo come immaginarlo chiaramente noi non siamo dei grafici quindi lo andremo a fare come secondo noi funziona di più e come per noi ha funzionato di più e poi magari approfondiremo anche tutto quell'aspetto relativo ai costi come gestirli in maniera ottimale torniamo con la nostra giornata con il nostro matrimonio e quindi vediamo come si evolve dopo il primo incontro con gli sposi con la coppia bene gli sposi sono venuti da noi la prima volta ci hanno poi chiamato hanno detto ok vogliamo te come operatore per il nostro matrimonio abbiamo scelto questo questo quell'altro questo servizio piuttosto che un altro per la nostra data ok una volta però raggiunto l'accordo è necessario formalizzare il tutto con un contratto i punti fondamentali da includere sono sicuramente la data ovviamente gli orari i prezzi gli obblighi e la descrizione dettagliata di cosa comprende il servizio e le modalità di consegna è molto importante richiedere un acconto quindi e stabilire una percentuale data da tenere in caso di annullamento del lavoro questo perché ovviamente se voi vi impegnate con una coppia per una data non potete averne un'altra e quindi giustamente se vi annullano la data perché non si sposano più c'è una qualsiasi cosa voi dovete essere coperti economicamente anche fino al 90% inoltre bisogna anche settare chiaramente quali sono le aspettative e i tempi di consegna così devi evitare malintesi quindi se la coppia ha deciso che vuole un operatore non può aspettarsi un video con due operatori quindi dove ci sono magari le reazioni di tutti i parenti dove ci sono tantissime cose che un operatore solo non può gestire quindi voi dovete essere bravi a farglielo subito capire in fase iniziale non dimenticate di specificare che durante il matrimonio avrete bisogno di mangiare e quindi di avere un posto riservato nel tavolo staff questo è un dettaglio che spesso viene trascurato ma è essenziale per il vostro benessere durante la lunga e estenuante giornata di lavoro infine assicuratevi di includere i diritti per l'utilizzo del materiale che avete appunto girato quindi di poterlo utilizzare per magari il vostro sito, per Instagram, per poterlo ripubblicare e questo appunto vi permetterà non solo di avere le foto e video per il vostro portfolio ma anche di avere del materiale promozionale e infine come abbiamo detto specificate sempre bene come consegnerete il materiale finale quindi il materiale finale verrà consegnato come? su una chiavetta, verrà mandato con un link che loro dovranno scaricare entro una certa data perché altrimenti si possono creare dei malintesi e fate subito presente che la consegna del materiale integrale che noi facciamo ma lo approfondiremo più avanti sarà un materiale che voi consegnerete e che sarà da quel momento in poi proprietà degli sposi e che per materiale integrale intendiamo tutte le clip che sono state registrate e non che voi registrate integralmente tutto il matrimonio perché questa cosa ovviamente non è fattibile è una progettazione che a noi è successa quindi è meglio consigliarvela, ok? il matrimonio va organizzato e va organizzato anche molto bene questo perché è un evento molto importante, molto grosso, di alta tensione e quindi noi stessi dobbiamo essere organizzati prima di affrontare quella giornata quindi non possiamo arrivare a fare le riprese come se fosse una fiera qualsiasi ma dobbiamo essere organizzati la prima cosa da fare, la primissima cosa da fare è quella di capire chi è il fotografo quindi capire chi è la persona che si occuperà degli scatti qualora non lo conosceste e la primissima cosa su cui verte anche il preventivo è se lavora da solo o in coppia quindi dobbiamo saperlo perché se fa e se lavora in coppia e fa le preparazioni in simultanea ovviamente voi non potete farle da solo e quindi dovete rivolgervi alla coppia per rimodulare il preventivo quindi la prima cosa da fare è chiedere il fotografo lavora da solo o lavora in coppia bene, lavora in coppia, ok farà le preparazioni in simultanea, che adesso vedremo perché generalmente viene fatta appunto casa sposo e casa sposa prima una e poi l'altra ma se le preparazioni sono fatte in simultanea quindi nello stesso momento chiaramente voi non potete sdoppiarvi e quindi è bene capire subito questa cosa è fondamentale quindi ottenere il contatto, il numero di telefono anche Instagram magari per vedere come lavora, chi è, che lavori fa, come imposta il proprio lavoro e soprattutto sentirelo telefonicamente per sincronizzare tutte le vostre varie attività entrate comunque in empatia con lui cercate di capire appunto che persona è come si approccia al lavoro in maniera tale da essere più tranquilli definire appunto gli orari è un altro aspetto fondamentale che dobbiamo fare con gli sposi direttamente o col fotografo quindi capire i vari luoghi che ci saranno gli indirizzi, dove si svolgeranno tutte le fasi che avverranno nel matrimonio e qua bisogna pensare a tutti gli aspetti che ci sono quindi è utile sapere il nome che c'è sul citofono specialmente per esempio se il nostro sposo o la nostra sposa si chiamano Rossi di cognome ma per quella notte lì saranno a casa della mamma e la mamma ha un altro cognome quindi noi dobbiamo arrivare lì e essere sprovvisti noi dobbiamo essere preparati quindi chiedere tutto, chiedere il nome che c'è sul citofono avere il numero di telefono dei genitori magari il numero degli amici quindi avere più punti di contatto perché dobbiamo essere pronti a essere preparati ad ogni evenienza e quindi arginare tutti gli inconvenienti che possono capitare quindi bisogna anche definire gli orari di spostamento che avremo e le tempistiche che sono altrettanto importanti e bisogna valutare anche tutte le opzioni che ci sono anche di parcheggio quindi dobbiamo valutare anche tutti i ritardi diamoci sempre una mezz'ora in più e dobbiamo cercare di rimanere sempre più larghi possibile quindi finita la fase organizzativa relativa appunto agli orari e tutto quanto quindi una volta avuto il quadro generale dobbiamo capire con gli sposi anche in base al fotografo che hanno scelto questa fase la potete anche fare prima però diciamo che dopo che avete capito come è il fotografo avete già un'idea più chiara dobbiamo capire il tipo di prodotto che cercano gli sposi ok? quindi preferiscono un reportage oppure qualcosa di più posato inoltre è utile conoscere i gradi di parentela che ci sono quindi se ci sono stati lutti recenti insomma capire e avere la giusta sensibilità questo è bene capirlo sempre prima del matrimonio è importante anche chiedere alla coppia se ci sono dei momenti particolari che vogliono che siano ripresi integralmente quindi senza stacchi e spiegare chiaramente quale sarà il nostro lavoro e quindi spiegare bene che integrale vuol dire una ripresa senza stacchi ok? quindi per esempio se ci sono delle letture se c'è la zia che legge una lettera ecco se c'è qualcosa che loro vogliono ovviamente di prevedibile se c'è qualcosa che loro vogliono integrale senza stacchi come per esempio il canto della sposa allora devono dircelo prima perché altrimenti noi giustamente se vediamo che c'è una canzone che canta l'amico dello sposo faremo qualche clip di qualche secondo poi ci sposteremo faremo più angolazioni ma se loro invece la vogliono in integrale ce lo devono comunicare prima e come dicevamo poc'anzi è fondamentale far capire che l'integrale si intende una clip registrata dall'inizio alla fine senza stacchi non l'integrale di tutto il matrimonio ok? bisogna entrare in focus su questa cosa qui e soprattutto specifichiamoli che andremo a consegnare poi che cosa? andremo a consegnare il trailer il film lo vogliono magari di 5 minuti lo vogliono un po' più corto capiamo in questa fase già cosa vorranno a livello di output così siamo preparati ok? perché generalmente vengono consegnati come montaggio finito un trailer che può essere per il social quindi verticale da 30 secondi 15 secondi un paio di trailer così poi abbiamo il trailer il film trailer che è quello un po' più bello un po' più emozionale un po' più diciamo completo che è riassuntivo ma racchiude già un po' più di situazioni con audio eccetera che può durare fino a un minuto e mezzo due minuti e poi wedding film che invece ci dura magari 6 minuti 5 minuti 10 minuti ecco questa cosa qua dobbiamo comprenderla una volta che abbiamo pensato all'aspetto organizzativo è utile capire adesso come voi stessi dovrete affrontare la giornata del matrimonio questo perché se la affrontate in maniera sbagliata veramente trovate lungo e duro innanzitutto bisogna partire dall'outfit ok? bisogna indossare un abbigliamento idoneo al posto in cui siamo ok? quindi questa cosa è ovviamente scontata bisogna prestare attenzione al caldo quindi bisogna scegliere vestiti formali ok? ma non eccessivamente eleganti chiediamo sempre il dress code ovviamente però andai in giacca cravatta e camicia se si sta facendo un matrimonio di altissimo livello se gli sposi ve lo chiedono va bene ma non è assolutamente necessario che voi andiate vestiti in questo modo anche perché voi state lavorando questo è una cosa fondamentale da far capire potete anche utilizzare la maglietta quindi andare in t-shirt però deve essere una t-shirt brandizzata quindi col logo col vostro logo non una t-shirt casual ok? meglio una t-shirt brandizzata preferite sempre materiali come il lino tessuti elastici insomma che vi offrono un comfort importante durante la giornata perché altrimenti siete rigidi ingessati cominciate a fare diciamo solamente disastri per evitare sorprese chiedete sempre alla coppia qual è il dress code in modo da evitare sorprese dovete sempre portare con voi una borraccia per essere idratati e soprattutto dei vari power bank per i vostri telefoni se per esempio avete il drone insomma cercare di avere dei power bank oltre ai caricatori per le batterie della camera ma dei power bank qualcosa che vi aiuti a arrivare a fine giornata anche col telefono e per quanto riguarda il discorso attrezzatura dovete cercare di essere leggeri ok? l'ideale è far stare tutto quanto in uno zaino solo in maniera tale da essere pratici potervi muovere in velocità senza essere ingombranti soprattutto a casa dello sposo a casa della sposa in chiesa dove magari dovete lasciare il vostro zaino da qualche parte ecco meglio avere sempre soltanto una borsa per poter essere più rapidi ed efficienti soprattutto lavorare in sicurezza senza evitare di perdere pezzi allora adesso facciamo ovviamente una panoramica su quelli che secondo noi sono gli elementi tecnici da portare che noi portiamo tuttora chiaramente potete anche avere degli altri dell'altra strumentazione trovarvi comodi con altri tipi di attrezzature però noi ci troviamo bene con questa attrezzatura qui iniziamo con la camera principale dico principale perché secondo me è sempre bene portare due macchine da presa con voi sicuramente una più prestante una meno prestante ma portatevi sempre due macchine perché se una dovesse avere qualsiasi problema siete coperti altrimenti passate i guai che dire la camera principale dovrebbe essere almeno una camera che non soffra il surriscaldamento quindi che non vada a surriscaldarsi perché è capace che starete tanto tempo sotto il sole che possa registrare almeno in 4K con la possibilità di fare dello slow motion a 50 fotogrammi al secondo e soprattutto che sia una camera che non abbia delle interruzioni quindi che non si stoppi durante che ne so 30 minuti di registrazione preferibilmente vi dico full frame quindi per questo per una maggiore resistenza in generale proprio del sensore anche ovviamente agli ISO quindi una camera che prediliga come le Sony che hanno una buona sensibilità agli ISO perché passeremo in zone in momenti veramente scuri portate sempre comunque come abbiamo detto una camera di backup quindi per sicurezza e per quanto riguarda le lenti io consiglio vivamente di avere un tuttofare quindi un obiettivo come potrebbe essere il 18-35 della Sigma un teleobiettivo e una lente macro per i vari dettagli ok ovviamente questo ci apre una piccola panoramica che non è soltanto per il video wedding ma in generale le lenti fisse fanno sempre la differenza quindi se avete il tempo se siete in due persone e le avete soprattutto io prediligerei delle lenti fisse per dare quindi un look migliore quindi riuscire a avere la giusta lente per il giusto momento però ovviamente se siete da soli se soprattutto siete all'inizio una lente tuttofare va benissimo ma ricordatevi di avere almeno un teleobiettivo e una lente macro che vi permette di fare delle immagini più particolari ovviamente non dobbiamo dimenticarci i vari caricabatterie caricatori più schede SD quindi non una sola SD ma portatemi due o tre perché non si sa mai e avere sempre lo spazio sufficiente sia di archiviazione sia di ricarica un faretto di emergenza può essere molto utile soprattutto in situazioni di scarsa luminosità o per fare magari dei tipi di luce particolari dei controluce giocare un pochettino ecco sicuramente un faretto di emergenza RGB piccolino USB-C insomma quei tipi di faretti io lo porterai sicuramente e ovviamente poi anche uno stabilizzatore quindi quello che può essere il Ronin ok quindi o lo Zune insomma quello che volete ma uno stabilizzatore è fondamentale da portare per permetterci di avere delle immagini più fluide e cinematiche potete anche portarvi il drone quindi se siete da soli potete avere quei droni piccolini della DJI di libera vendita quindi quelli che non richiedono diciamo un patentino e quelli che possono volare appunto ovunque quelli minuscoli per intenderci e utilizzarlo magari nei momenti morti della giornata quindi non farete un servizio drone dedicato ma magari vi porterete a casa qualche immagine di contesto qualche presentativa del luogo che è indispensabile per fare un buon montaggio e che quindi secondo me accresce di molto il valore percepito durante l'acquisizione dei clienti e se la vostra camera appunto non è stabilizzata quindi non ha un sistema di stabilizzazione importante io direi di utilizzare un monopiede perché è indispensabile vi permetterà di non tremare dopo due secondi che ci sono le promesse ma vi permetterà di essere fermi immobili ed evitare che le che le immagini siano tremolanti che soffrano un po' quello che è l'affaticamento delle vostre braccia passiamo adesso all'altra parte che è fondamentale come la ripresa cioè l'audio quindi per quanto riguarda l'audio io direi di portare assolutamente un microfono lavalier quindi una pulce da poter mettere direttamente sugli sposi un microfono direzionale che montate sopra la vostra camera e poi un acquisitore audio che vi possa permettere di riprendere a 360 gradi quello che succede chiaramente sono tanti microfoni ne basta uno ne basta nessuno chiaramente potete anche andare senza microfono e prendere tutto con l'audiocamera e pulirlo con l'intelligenza artificiale però stiamo parlando di un matrimonio ok quindi bisogna entrare nell'ottica che le cose succedono una volta e basta e se il microfono si scollega ve lo ben accorgete e non avete le promesse quindi ridondanza più sistemi che catturano l'audio io consiglio questi tre microfoni o almeno sicuramente uno dei tre è fondamentale comunque faccio questa piccola parentesi se c'è qualche termine tecnico che non vi è chiaro ovviamente scrivetecelo noi siamo felicissimi di aiutarvi però vi segnalo che noi abbiamo fatto un corso dedicato solamente all'audio quindi a tutti i tipi di microfoni che ci sono come si utilizzano come si regolano quali sono i campi di utilizzo quindi andatevelo a recuperare se vi interessa e lo stesso vale per il videomaking ok quindi un corso da zero videomaker da passione a professione chiaramente magari per voi che volete già diventare wedding videographer e magari un po' in tri-level però soprattutto verso le fine diamo delle nozioni molto molto utili che secondo me male non fanno quindi se volete sapete che queste nozioni le approfondiamo in altri corsi ragazzi il video finisce qui vi ricordo che questa lezione è un estratto di un videocorso molto più completo che abbiamo fatto quindi nel link trovate i riferimenti per andarlo ad acquistare sono sempre molto interessanti i nostri corsi che vi aiutano proprio nel mondo lavorativo e in maniera pratica a poter approfondire la professione in ogni caso io vi ringrazio vi invito ancora ad iscrivervi al canale attivare la campanellina perché per noi è molto utile ciao ragazzi grazie a tutti